cercare di apprendere dal maestro riconosciuto universalmente Jean-Martin Charcot alcune questioni che lo interessavano intorno a una metodica di trattamento delle malattie psichiche l'ipnosi, intorno a una sindrome psichica listeria e a una certa idea che cominciava a emergere sull'origine sessuale dei disturbi neurotici. Il metodo ipnotico colpì molto Freud perché dimostrava che per le malattie psichiche, in particolare listeria, c'era una via finora inesplorata esclusivamente psicologica per arrivare non solo al trattamento ma anche alla comprensione del disturbo psichico stesso. Freud contribuì quindi sotto l'insegnamento di Charcot a eliminare dal campo dello spiritismo, dal campo delle credenze nelle indemoniate tutta una serie di malati e di riconoscere una causa organica venivano perciò stesso recluse senza tentare nemmeno di capire cosa fosse loro successo. Il grosso impegno di Freud fu subito a Parigi, trentenne, quello di arrivare a comprendere il significato delle espressioni sintomatiche, il significato di certi turbamenti corporei fino alle paralisi, fino alle contorsioni, fino alle convulsioni, in breve a dare significato al linguaggio malato. Questo è stato il significato principale che Freud da Parigi si portò a Vienna. Con in più, Charcot non lesinava questa espressione, c'è toujours la chose sessuale, si tratta sempre di una cosa sessuale. Quindi Freud era arrivato a Parigi con qualche idea intorno all'importanza della sessualità nella causa delle malattie psichiche e tornò da Parigi a Vienna con la certezza che qualcosa di questo genere fosse all'opera nelle malattie nevrotiche.